Noi siamo qua dal 20 maggio, giorno in cui abbiamo avuto uno sfratto per morosità incolpevole. Siamo arrivati qua in fretta e furia, abbiamo comprato una roulotte, tutte le cose che ci servivano, abbiamo montato tutto. Adesso le mostro dove noi viviamo dal 20 maggio. Tre figli da mantenere, da mandare a scuola, a cui dare un tetto e una dignità. Morena Cergolmovio vive in campeggio Lazzaretto da tre mesi. Si è arrangiata assieme al marito prendendo il necessario per non restare in mezzo alla strada e sistemarsi sotto le tende in una piazzola. La stessa che però dovrà liberare entro fine mese poi la chiusura del campeggio. Abbiamo dovuto arrangiarci come potevamo, abbiamo anche fatto il bagno, abbiamo fatto anche ogni tanto una bella estate. Adesso l'estate sta per finire, il 30 settembre questo campeggio chiude e noi non abbiamo assolutamente nessun posto dove andare. Dopo lo sfratto la famiglia Cergolmovio ha fatto domanda all'atter per trovare una soluzione, qui però ha incontrato alcune difficoltà. Noi abbiamo fatto domanda all'atter, per l'esattezza l'ha fatta mio marito perché essendo residente nel comune di San Dorligo della Valle mio marito lavora nel comune di Trieste aveva più possibilità di far sia in un comune che nell'altro. Facciamo la richiesta, facciamo la domanda, morale della favola, ci ritroviamo a San Dorligo della Valle con 14 punti, quinto in graduatoria, zero appartamenti. Comune di Trieste 10 punti, 1592 esimi. È una cosa assurda perché siamo marito e moglie, abbiamo tre figli, facciamo parte del stesso nucleo familiare da 12 anni, quindi non riesco a capire come stessi redditi. Noi, noi cinque, in un comune siamo con 14 punti, nell'altro comune siamo con 10. Semplice, mi risponde il direttore dell'atter, perché a me è stato riconosciuto lo sfratto incolpevole, perché il contratto d'affitto a Matonaia era a nome mio, a mio marito no. Io mi chiedo, sono quinta a San Dorligo della Valle, non c'è un appartamento a San Dorligo della Valle, me lo dai magari da un'altra parte, visto che, come l'ho appena mostrato, noi ci ritroviamo qua. Non soltanto ATER, il nucleo familiare si è mosso attraverso altri canali, la fondazione Cacciaburlo, che però non ha fornito loro una soluzione adatta, la solidarietà di chi ha offerto loro una stanza, opzione complicata per sistemare cinque persone, e il mercato privato, dove però la richiesta iniziale di denaro è troppo alta. La maggior parte chiedono tre mesi anticipati, il mese corrente, per non parlare delle agenzie, tre mesi anticipati per il proprietario della casa, mese corrente, più due mesi per l'agenzia, più IVA. Nell'attesa che qualcosa si muova, tra poco incominciano le scuole e il meteo sarà sempre meno estivo. Morena chiede urgentemente un incontro con Regione e ATER. Chiedo assolutamente un incontro urgentissimo con Fedriga e con il direttore dell'ATER, il signor Ius, per risolvere al più presto questa situazione. Non voglio passare davanti graduatori a nessuno, non voglio rubare la casa a nessuno, ma penso che anche noi abbiamo diritto di avere un tetto sopra la testa.